Sella Ronda Quattro salite da quattro discese è una delle gare più dure che esistono in pista Abbiamo 1.300 atleti partecipanti suddivisi in 650 coppie Quest'anno con la scarsità di neve naturale l'abbiamo dovuto spostare completamente sulle piste innevate e grazie a questo è diventata ancora più dura Fiora quasi 3.000 metri di dislivello e sarà molto interessante chi vincerà questo Sella Ronda durissimo Gli atleti arriveranno sicuramente stremati non tanto i primi che sono ultra allenati ma il grande gruppo che vuole finire il Sella Ronda se lo ricorderò per un bel po' di anni che vuole finire e che vuole finire e che vuole finire e che vuole finire che vuole finire che vuole finire e che vuole finire che vuole finire e che vuole finire che vuole finire che vuole finire e che vuole finire 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 e che vuole finire Grazie a tutti.